salve amici adesso facciamo insieme tutte e cinque le sfide di core che è questo personaggio qui vi faccio vedere da dove trovarlo a come far tutte le sfide ma se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale che stiamo mettendo tutte le sfide che ci sono andiamo subito da core brughiere brumose bello zoom signori per vedere dove si trova si trova qui in basso a destra di brughiere brumose quindi ora siamo diretti lì quello che dovete fare è prima di tutto andare da lui gli parlate accettate il primo incarico e da lì le cose vanno avanti da sole ogni volta che fatto un incarico vi da il successivo il primo sarà grigio raccoglie un fucile di precisione semplicemente quando l'avete finito vi da gli altri incarichi in modo automatico non dovete tornare qua ogni volta quindi accettiamo il primo incarico e partiamo raccoglie un fucile di precisione quando avete due possibilità la prima è fare come ho fatto io andate in giro per la mappa con noi come dei pazzi finché ne trovate uno quando lo raccogliete è sufficiente raccoglierlo avete finito la sfida la seconda è tornare d'accordo lo pagate lui vivendo un fucile di precisione lo buttate a terra e lo raccogliete cosa che funziona perfettamente perché mia figlia ha testato e vi posso garantire che funziona ora passiamo subito alla sfida numero due infliggi danni con fucile d'assalto fucile di precisione e qua già che avete il fucile vi conviene utilizzarlo subito è la modo modo più più veloce quindi prendete la mira e sparate a qualcuno ti fate del danno in questo caso l'ho ammazzato subito non è stato sufficiente ho dovuto cercare un'altra cavia che ho trovato subito poco pochi metri dopo anche qui gli sparate se volete vi ricordo che potete usare un fucile d'assalto uno qualunque non dovete per forza usare il fucile di precisione a me piaceva questo ho usato questo la sfida è finita anche questa ora passiamo alla terza sfida infliggi colpo la testa con fucile d'assalto fucile di precisione e questo è già un pochino più interessante che dovete colpirle in testa non dove capita per cui io sono stato imboscato in un bel cespuglio fin quando ho visto qualcuno che si avvicinava a quel punto ho preso una bella mira e gli ho scaricato da sotto quello che riuscivo finché sono riuscito a colpirle la testa voilà anche questa sfida è finita era abbastanza facile dovete solo mirare bene la testa e avere anche un pizzico di fortuna della verità ora le cose sono divertenti dobbiamo fare un danno entro 30 secondi dopo che siamo entrati ci siamo nascosti nel fieno in un cassonetto o nello scarico i 30 secondi chiariamo non sono dal momento in cui uscite ma dal momento in cui entrate nel cassonetto o nel fieno quello che è quindi da questo momento partono i 30 secondi e uno e due e tre e quattro e così via quindi conviene sfruttare subito la possibilità perché il tempo scorre appena lo vedete saltate fuori e scaricate addosso del danno non dovete farne tantissimo dovete solo colpirlo se poi siete sfortunati come me che quello continua a scappare non lo colpite la cosa è già più problematica ma alla fine sono riuscito anche a colpirlo e la sfida anche questa è finita perché sono stato dentro i 30 secondi qua ultima sfida usa una moto su una vetta della montagna se voi guardate ve ne da quattro posizioni ma fate attenzione io sono andato qua vi assicuro che ho provato questa montagna e tutte quelle vicino ma non mi ha dato assolutamente niente ho dovuto cambiare montagna e sono andato su quest'altra ora vi faccio vedere come andata su quest'altra montagna qui salivo bisogna salire sulla vetta quindi il punto più alto probabilmente me lo dava anche qua dove sono adesso io ho detto ma si salto proprio sul punto più alto e a momenti mi schianto di sotto sono riuscito a rimanere in piedi come uno stambecco però comunque andate sul punto più alto della montagna probabilmente anche qua sotto va bene vi fate una risata qualunque cosa e la sfida è finita bene adesso avete fatto tutte le sfide di core tra poco metterò anche tutte le altre a dopo se questo video ti è piaciuto metti un pollice in su che per noi è un gesto bellissimo iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche